Abbiamo scontrato prima la ricerca di Francesco sui nomi di Dio e Dio e Dio e Dio e Dio e Dio. Questo bravo grazie a scoprire il Signore, i Santi in qualche modo stessi vivono, anche se poi, prima della Santa Gesella dello Spirito, vivono e avevano sempre l'uomo dell'unico Vangelo che è capace di novità in grado di vita. E' stata la testa della povertà con l'amore della povertà, perché questo povero che lei vedeva in maniera contemplativa nei poveri, nella gente povera e nella realtà della povertà, vedeva tutto l'amore con cui Dio ha preso di sé, i poveri, la povertà, scrive nell'83, quindi non recentemente, questa preghiera di scoprire. San Giovanni II mi aveva chiesto, per il giubileo della ritenzione dell'83, di esprimere ai giovani chi era Gesù che era me e quando la realizzata scrisse, disse a questa preghiera incredibile, chi è Gesù che era me e comincia Gesù, la luce, Gesù è la parola, Gesù è il veroso, Gesù è il mondo, Gesù è la parola scritta, Gesù è il drogato, fino ad arrivare a tutte le categorie, quelle che noi incontriamo, no? Positivamente. E dice al figlio, Gesù è il mio sforzo, Gesù è il mio punto, Gesù è il terreno. Questo ricorso, nella vita dei santi, delle stessi elementi, ma qui interpretate il Gesù, che è veramente una prova che lo Spirito Santo rimane alla Chiesa e finisce no alla Chiesa. Lo ascolterete in inglese quando viene così, ma è proprio quello che è il problema, è facile da capire. E pensate anche a ciò che invece ha lasciato, a queste eredità in grande, delle eredità che vedete, Cristo ricorda. Attenzione, non è semplicemente fare una cosa, ma è, vedete la sua presenza, presenza di un libro, Gesù è il mio punto, Gesù è il mio punto, Gesù è il mio punto. Gesù è il mio punto, 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 Gesù è il Grazie per la visione 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 Grazie per la visione